Ad Agrigento, presso Casa San Filippo, sede dell'ente Parco archeologico, i prossimi venerdì e sabato 23-24 novembre, si svolgerà la sesta edizione delle giornate gregoriane. L'iniziativa, promossa dallo stesso Parco archeologico della Valle dei Templi di Agrigento, diretto da Giuseppe Parello e dall'assessorato regionale Beni Culturali, in collaborazione con Comune Soprintendenza di Agrigento, focalizzerà le tematiche del restauro degli edifici antichi con problematiche strutturali. Il dibattito si svolgerà venerdì al mattino e al pomeriggio e poi sabato mattina e sabato pomeriggio. Invece è in programma una visita guidata nei siti archeologici della Valle dei Templi. Bene, questa era l'ultima notizia, vi lascio alle previsioni meteo, grazie per averci seguito e arrivederci alla prossima edizione. Nel pomeriggio a nord, soleggiato ma con nubi sparse. A sud, soleggiato ma con nubi sparse. Previsioni per domani, al mattino a nord, soleggiato ma con nubi sparse. A sud, soleggiato ma con nubi sparse. Nel pomeriggio a nord, schiarite alternate a nubi sparse. A sud, schiarite alternate a nubi sparse. Grazie a tutti.